sospirone perché mi accingo a parlare di una cosa estremamente controversa e in questo periodo però per la quale ho ricevuto tante richieste di aiuto e cioè usare la mascherina anche quando si canta ora attenzione non voglio entrare nel merito di chi ritiene che questa cosa sia giusta o sia sbagliata entro solo nel merito delle leggi le regole i decreti qualsiasi cosa sia in tutto il mondo non soltanto in italia perché so che il pubblico che mi segue sicuramente in gran parte vive in italia ma non soltanto ci sono tantissime persone veramente in tutto il mondo delle quali tra l'altro sono super grata comunque esiste è in vigore in questo anno 2020 in questo momento che sto registrando questo video è ottobre 2020 esiste questa regola che impone l'utilizzo della mascherina al chiuso dovunque ci troviamo ora non entro nel merito di spettacoli concerti serate eccetera perché ovviamente regole diverse modalità diverse ma entro nel merito delle prove momenti in cui si canta alle prove del coro momenti in cui si canta alle lezioni di gruppo momenti in cui ci si ritrova nelle scuole di teatro e così via lezioni che ancora sono consentite che si possono fare utilizzando obbligatoriamente una protezione allora le regole dicono che la protezione non è sufficiente serve anche la distanza e tutto il resto però mi scrivono in tanti mi chiedono in tanti e io stessa l'ho sperimentato facendo lezione di gruppo come si fa a cantare e respirare soprattutto con la mascherina allora premesso che prima di tutto deve venire la sicurezza ci sono però degli espedienti che permettono di usare la mascherina in un modo tale da non mangiarsela fondamentalmente quando si inspira ok allora chiaramente dipende dalla forma del vostro viso e della maschera stessa ad ogni modo io affronto il tema con le mascherine chirurgiche che sono queste qui queste in questa stoffa azzurretta e con questi con gli elastici messi così d'accordo la mascherina dovrebbe essere messa in questo modo appoggiatela vela vi aggiustate qua il ferretto che ha sul naso la mettete ed è fatta ok che cosa succede che la mascherina aderisce ok il più possibile e tende a entrare dentro se vuoi invece di metterla diciamo così aderente in questo modo da tutte le parti semplicemente scostate la mascherina qua cioè la rendete aderente ma non in fondo alla gola ma un pochino più vicina al mento ok ecco che qui naturalmente la fissate bene ecco che si crea una sorta di bolla ok per quello che mi riga guarda queste mascherine sono troppo grandi io devo per forza fare questo giro cioè una sorta di otto con l'elastico di qua e di là ok e qualcuno mi dice sì ma certo malaria a questo punto ti entra e ti esce dalle parti e quindi che succede non sei più non crei più una sicurezza allora in realtà voi potete benissimo chiuderla qua vedete chiudere proprio chiudere non entra niente dart fener però il risultato è che si può riuscire a inspirare perché si crea per l'appunto vedete questa specie di effetto museruola fondamentalmente qua è chiusa qua sotto è chiusa qui è chiusa ma dentro c'è maggior spazio quindi per quanto sia comunque abbastanza sicura per quanto sicura possa essere questo tipo di mascherina che vi ricordo io non sono un medico quindi non posso dire niente ma non è che di per sé sia la panacea di tutto però è necessario tenerla è necessario tenerla nella sicurezza più grande possibile io in questo modo riesco a prendere un bel respiro senza che mi entri dentro fondamentalmente la la maschera dentro la bocca dopodiché il modo in cui si canta è ovviamente filtrato è ovviamente diverso da come sarebbe farlo senza però in questo momento se le regole richiedono di metterla noi cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile ok spero di aver risposto a quelli di voi che mi chiedevano come fare al suo punto me la posso togliere come fare per indossarla nel modo più possibile più scusate più più pratico più utile e di riuscire tutti insieme ad attraversare questo periodo difficile non sto affatto dicendo che sia facile consigliato o qualsiasi altra cosa se potete se avete modo per esempio le lezioni di canto individuali io io sponsorizzo tantissimo le lezioni online soprattutto se l'insegnante è una persona che conosce il metodo dell'insegnamento online che non è identico a come si fanno le cose in presenza ma considerando che in questo periodo non ci si può toccare quindi non si può toccare con mano realmente quello che succede alcuni esercizi proprio non si possono fare tipo i lip trill le r perché producono emissioni di un certo tipo la cannuccia le bollicine nel cantare molto intensamente note molto alte si crea una grande emissione e tutte queste cose online tutti questi problemi non ci sono ma per quello che riguarda le prove le cose collettive eccetera alternative in questo preciso momento non ve ne sono anche perché visiere e altri tipi di espedienti non non sono più consentiti quindi in questo preciso istante questo è quanto spero di non creare troppa controversia spero che chi guarda questo video lo guardi con l'occhio giusto se avete qualsiasi commento qualsiasi critica qualsiasi cosa che sia costruttiva e non semplicemente mirata a devastare qualsiasi cosa siete benvenuti lasciatemi pure i commenti che volete se volete iscrivetevi al canale condividete e tutto quello che è necessario fare ricordo a tutti che il mio corso di belting note alte senza fatica online esce di nuovo tra non molto tempo è ancora possibile iscriversi alla lista di attesa per averlo in anteprima e con uno sconto il sito è belting.cantafinoallestelle.com tutte le altre cose corsi lezioni individuali eccetera sono sempre disponibili sul mio sito per qualcuno di voi che fosse interessato un abbraccio